Tu hai una balbuzie, però non mi sembra che ti abbia creato problemi grossi nel lavoro. Non me li crea adesso, diciamo. Ti assicuro che i primi provini, quando non ti conosce nessuno, valbettavo molto, 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 molto di più. Ti è stata tosta, insomma. C'è stato un ufficio casting che ho rincontrato anni dopo e quelle sono le soddisfazioni belle. Prima di arrivare a fare il provino sulla scena, diciamo, fai un incontro con l'ufficio casting. Ecco, io penso che quell'intervista sia durata 18 minuti in cui io volevo solo dire Vinicio. Quando sono riuscito a dire Vinicio Marchioni, questo sei, affacciato dall'obiettivo della telecamera, che stava così, ma tu veramente puoi fare l'attore? Grazie.